Un buon pomeriggio dalla redazione di Alive e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione che in primo piano vede la cronaca giudiziaria e in particolare un nuovo risvolto a seguito dell'udienza che si è tenuta ieri al Tribunale dei Minori di Brescia in merito a questo nuovo filone d'inchiesta sulla strage di Piazza Loggia del 1974, un rinvio a giudizio che è stato deciso dal giudice per Marco Toffaloni che all'epoca era minorenne, aveva 17 anni e secondo l'accusa sarebbe fra gli esecutori materiali della strage, sarebbe stato presente in piazza quel 28 maggio. Il giudice dei Minori Angelica Nolli ha accolto la richiesta della procedura minorile e rinviato a giudizio con l'accusa di strage Marco Toffaloni, ritenuto uno degli esecutori materiali della strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974, accusato in questo filone nuovo di inchiesta anche Roberto Zorzi. L'udienza preliminare è stata celebrata davanti ai giudici del Tribunale dei Minori perché Toffaloni in quel 1974 era ancora minorenne avendo 17 anni. Secondo quanto riportato dall'Ansa attualmente è residente in Svizzera ed è cittadino di quello stato. Secondo la pubblica accusa ci sarebbero delle prove sulla presenza in piazza del giovane Toffaloni il giorno della strage, il riferimento è in particolare a una fotografia. Secondo la difesa invece non si doveva procedere a causa della sopravvenuta prescrizione, il processo prenderà il via il prossimo 7 settembre. Proseguiamo con l'ormai consueta pagina politica giorno dopo giorno, va delineandosi sempre di più il quadro politico appunto in città in vista delle elezioni del 14 e 15 di maggio. Ieri l'annuncio di una nuova lista a sostegno della candidatura nel centro-sinistra di Laura Castelletti si tratta di Brescia Attiva, una lista giovane che parte e prende un po' i suoi fondamenti dai Fridays for Future e più volte nel corso di questi ultimi anni li abbiamo seguiti nelle loro manifestazioni e nei loro scioperi per il clima. Ieri due esponenti di questa nuova lista erano ospiti, a sette e mezzo li ha intervistati, il nostro direttore Paolo Bollani e allora ne ascoltiamo un piccolo estratto. In realtà era partito da un po' questa discussione con Laura, noi ci tenevamo tantissimo che i nostri temi venissero presi in considerazione in modo molto serio, per questo è stato un po' lungo la discussione, ci ha voluto tempo per confrontarci, capire se effettivamente c'era spazio all'interno della coalizione per i nostri temi e per fortuna sembra che lo spazio ci sia stato dato, il nostro punto forse fondamentale che è Brescia Zero Missione al 2035 è rientrato all'interno del programma di Castelletti e insieme a un'altra serie di punti. I temi sono tanti, come Brescia Attiva la nostra bussola è sempre stata unire l'accelerazione della transizione ecologica e energetica a rispondere ai temi sociali di disuguaglianza, cioè la transizione ecologica è uno strumento per risolvere un sacco di altri problemi, parliamo del tema della mobilità, per esempio città 30 non vuol dire una città in cui si va 30 all'ora, vuol dire una città in cui i genitori non devono più dire i bambini attento alla strada, perché la strada deve essere un luogo sicuro per tutte le persone che ci girano, oppure il fatto di rendere una città molto più ciclabile vuol dire che tu se abiti anche in periferia, non è che solo in centro puoi muoverti in bicicletta e in sicurezza, ma da periferia, altre zone della periferia puoi muoverti in bicicletta in maniera molto più economica, molto più veloce e nel mentre riduciamo anche le emissioni, riduciamo l'inquinamento. E tu insomma in più occasioni non è stato proprio morbidissimo con l'aggiunta del buono, diciamo così? No no è assolutamente corretto, non so che siamo scesi in piazza diversi anni con Fridays for Future a dire bisogna accelerare incredibilmente e quello che noi portiamo come Brescia attiva è esattamente quella cosa lì, cioè il accelerare incredibilmente. Tempo di presentazione di liste e simboli ma anche di presentazione di quelli che sono i primi punti dei programmi, le prime proposte. Ieri il terzo polo, in particolare Brescia in azione, ha presentato alcune proposte in merito alla possibilità, all'eventualità di rendere la città di Brescia ancora più a misura di bambino. Fra queste proposte quella forse più curiosa è quella dell'istituzione come ad esempio avviene in Francia, a Parigi, di una data di quartiere. Tanto è stato già fatto nella giunta precedente ma noi pensiamo che Brescia a dimensione bambino debba essere uno dei pilastri centrali di questa campagna. In primis coinvolgendo il consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi che è stato eletto e che esiste a Brescia dal 2009. Inoltre prolungando Brescia, città della cultura, attraverso un partenariato con Brescia Musei e anche il Teatro Grande per continuare un'offerta importante culturale per educare alla bellezza e alla cultura i bambini. Un'altra cosa che mi tiene molto a cuore è la questione della data di quartiere che esiste a Parigi. Io e i miei figli li ho cresciuti così che permette a delle famiglie di avere a disposizione dell'etate formate che si dividono con un'altra famiglia e quindi ci permette appunto una flessibilità maggiore che l'asilo nido a un costo uguale o anche minore. Tra le proposte è anche quella di far imparare subito i bambini e una doppia lingua, quindi italiano e inglese. Una proposta doverosa per loro perché vogliamo essere i primi posti in Europa e allora è giusto che si inizia a parlare anche l'inglese. Nelle scuole materne e negli esili nido la nostra proposta è quella che si possa avere la doppia lingua, perciò italiano e inglese. Altre idee? Altre idee, stiamo pensando anche degli spazi al chiuso. È vero che stiamo verso la bella stagione ma dobbiamo pensare i prossimi mesi, i prossimi anni, perciò ludoteche, spazi chiusi dove i bambini possono trovarsi a giocare, a socializzare e questo può essere realizzato anche con l'aiuto delle biblioteche sociali. La nostra città ad oggi ne ha tre e si sta completando il primo biegno del progetto pilota, ci piace pensare che possano proseguire, essere potenziate e anche loro iniziare ad aiutare queste nuove ludoteche. Queste sono proposte che aiuteranno sicuramente le famiglie a tenere i bambini lontani dagli schermi, un disagio sociale che stiamo vivendo tutti, su cui tra l'altro nelle settimane scorse abbiamo chiesto di avviare un tavolo permanente di monitoraggio. Terremoti politici negli ultimi giorni certamente non sono mancati, a partire dal passaggio inatteso di Angela Maria Paparazzo dal mondo del centro-sinistra a quello del centro-destra, candidandosi certo da indipendente però nella lista di Fratelli d'Italia e il suo ex gruppo, meglio associazione Brescia Green, ha preso in maniera netta le distanze da questa scelta e anzi ha rilanciato annunciando una lista già pronta, già chiusa a sostegno di Castelletti. La scelta di Angela Maria Paparazzo di lasciare il centro-sinistra per candidarsi da indipendente nella lista di Fratelli d'Italia non ha potuto lasciare indifferente Brescia Green, che nelle ore subito successive si è nettamente smarcata. La decisione dell'associazione è chiarissima ed è di rimanere nell'alveo del centro-sinistra, sostenendo la candidatura di Laura Castelletti con una lista già pronta. Brescia Green ha chiuso una lista rappresentativa in un modo di intendere l'ambientalismo in forma partecipata, scrivono dal gruppo. Da oggi raccoglieremo le firme per presentarci con un programma condiviso alle prossime elezioni municipali. L'associazione, che si dice ancora legata alla sua vocazione più culturale che politica, sposa appieno anche l'obiettivo del centro-sinistra di far diventare Brescia European Green Capital, come annunciato dalla Castelletti stessa alcune settimane fa. La scelta di Angela Maria Paparazzo di candidarsi con Fratelli d'Italia non ha nulla a che fare con il lavoro svolto della nostra associazione fin dalla sua costituzione, aggiunge Brescia Green. Con sconforto il direttivo di Brescia Green prende atto di tale scelta, dissociandosi da queste dinamiche politiciste, individualiste, che scoraggiano sia relazioni politiche virtuose e che alimentano la disaffezione al voto e inoltre riducono il valore della partecipazione dal basso. Apriamo ora una pagina del nostro giornale dedicata alla Pasqua. Inizia oggi ufficialmente il periodo pasquale, allora analizziamo questo tema sotto diversi aspetti, partendo da quello della solidarietà e partendo dall'iniziativa messa in campo questa mattina da Confartigianato Brescia che ha donato 50 uova di Pasqua benefiche all'Istituto Razzetti di Via Milano. Abbiamo lanciato il progetto Spirito Artigiano per definire meglio la vocazione artigiana al dono. Gli artigiani sono donativi per natura e noi abbiamo ripreso questa tradizione dopo logicamente il fermo della pandemia che è quella di omeggiare delle uova pasquali a chi ne ha bisogno, a chi non tanto quantificare il costo delle ma il gesto donativo che facciamo a qualche istituto, ad associazioni piuttosto che a riparti oncologici per bambini. L'abbiamo fatto in passato, abbiamo ripreso questa bella tradizione, quest'anno abbiamo scelto questo istituto dove ci sono grandi momenti di volontariato e di solidarietà, per cui è un piccolo segno che vuole essere un sorriso dolce da parte di chi ne ha bisogno. Oggi noi ci lamentiamo quotidianamente di tante cose ma in realtà difficilmente ci giriamo dietro e vedere e a guardare le persone che hanno veramente bisogno e renderci conto in realtà di quanto siamo ancora fortunati. A chi andranno queste uova donate da Confartigianato? Queste uova andranno ai ragazzi del centro di aggregazione giovanile, sono 50, quindi una grande quantità che riuscirà a soddisfare davvero tutti i ragazzi del gruppo media, quindi dagli 11 anni in su e sono femmine maschi di diversa provenienza, quasi tutti di origine straniera ma ormai italiani perché è nati qua. Le interviste complete le trovate sul nostro quotidiano online e nell'articolo dedicato, molto interessante anche perché con la dottoressa Lamberti siamo andati anche ad analizzare e quindi scoprire qual è il lavoro ad oggi dell'Istituto Razzetti, una realtà che riesce ad accogliere e ad aiutare decine e decine di bambini e ragazzi oltre ovviamente alle loro famiglie. Proseguiamo sempre con un'iniziativa molto simile, se non analoga, andata in scena però ieri al civile di Brescia e questa volta a donare le uova di Pasqua ai piccoli pazienti del maggiore nosocomio cittadino sono stati i militari del comando provinciale dei carabinieri. I carabinieri del comando provinciale di Brescia sono andati a trovare i bambini ricoverati nei reparti pediatrici dell'ospedale civile e per l'occasione hanno portato delle uova di Pasqua in regalo. Una bella tradizione che si è ripresa solo quest'anno dopo tre anni di interruzione forzata causata dalla pandemia. Le carte delle uova di Pasqua erano rosse e blu come i tradizionali colori della benemerita arma dei carabinieri. Alla visita hanno partecipato anche tre volontari di un'associazione locale attiva sul territorio che con i costumi da clown e i palloncini colorati hanno contribuito a donare un sorriso ai piccoli pazienti dell'ospedale. Ora un paio di notizie sempre in tema pasquale che potremmo definire di servizio a partire dal servizio, scusate il gioco di parole, del trasporto pubblico locale di Brescia che da oggi ovviamente cambia orario. A partire da oggi ci saranno delle variazioni negli orari di metro e autobus in occasione delle festività pasquali e della conseguente chiusura delle scuole. In particolare la metro da giovedì 6 a martedì 11 aprile seguirà l'orario feriale non scolastico mentre domenica 9 e lunedì 10 aprile sarà in vigore l'orario festivo. Per quanto riguarda gli autobus invece da giovedì 6 a martedì 11 aprile seguiranno l'orario pasquale e lunedì 10 l'orario festivo in occasione di Pasquetta mentre domenica 9 per Pasqua oltre a seguire l'orario festivo il servizio terminerà in anticipo alle 12 e 30. Per qualsiasi informazione le tabelle orarie sono disponibili i canali ufficiali di Brescia Mobilità. Pensando alla Pasqua e soprattutto all'organizzazione delle tradizionali gite fuori porta di Pasquetta è inevitabile anche dare uno sguardo al meteo che nonostante il sole di questi giorni ci sta dando delle temperature rigide e soprattutto instabilità. Allora proviamo un po' a fare chiarezza, a mettere in ordine il tutto con Trebi Meteo. Andiamo a vedere gli sviluppi con un peggioramento del tempo in giornata sulle regioni settentrionali e delle precipitazioni su Alpi, Prealpi, parte del nord ovest e della Toscana con neve sulle Alpi anche fin verso i 1000-1200 metri di quota. Peggiora poi in serata anche sulle centrali tirreniche e le Marche, attesa invece per il sud. Dicevamo attesa perché poi nel weekend, proprio tra sabato e domenica, il minimo di bassa pressione arreccherà instabilità soprattutto sulle regioni meridionali con qualche precipitazione e neve in appennino. Per quanto riguarda le temperature, giovedì giornata con valori termici sotto le medie dappertutto, anche molto sotto le medie durante la prossima notte al centro nord, ci avviciniamo agli 0 gradi anche in pianura. Per quanto riguarda invece le massime, a fatica raggiungeremo i 15 gradi in Valpadana, addirittura sul medio-basso Adriatico, non oltre 12-13 gradi. Ulteriori dettagli, approfondimenti su questo weekend di Pasqua scaricando l'app di Trabi Meteo. Chiudiamo quest'ampia pagina dedicata alla Pasqua e insieme ai colleghi di Italpress una notizia economica, buona notizia, sebbene insomma i dati, i numeri rimangano abbastanza critici e lo sanno bene le tasche dei bresciani e degli italiani, però a marzo c'è stato un rallentamento dell'inflazione a livello nazionale. A marzo, secondo le stime preliminari dell'Istat, prosegue il rallentamento dell'inflazione, scende infatti al 7,7% dalla 9,1% del mese precedente. A determinare il calo è soprattutto la dinamica dei prezzi dei beni energetici, sia della componente regolamentata sia di quella non regolamentata. La diminuzione è dello 0,3% su base mensile. Il rallentamento del tasso di inflazione si deve in misura minore alla contrazione dei prezzi degli alimentari lavorati, dei beni non durevoli e dei servizi relativi ai trasporti. Questi effetti sono stati solo in parte compensati dall'accelerazione dei prezzi degli alimentari non lavorati, dei tabacchi e dei servizi di creativi, culturali e per la cura della persona. L'inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, registra ancora una moderata accelerazione, dal 6,3% al 6,4%. Rallenta anche l'inflazione dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto, dal 9% al 7,7%. Cambiamo decisamente argomento, questa sera sarà intanto atteso appuntamento al Teatro Grande con il regista premio Oscar Quenti Tarantino che presenterà il suo ultimo saggio, ovviamente sempre in tema cinema, Teatro Grande che sarà gremito, sold out ormai già da tantissimo tempo e sarà anche ovviamente blindato per ragioni di sicurezza, evento che come era stato ampiamente annunciato, sarà vietato ai telefoni cellulari. Il regista premio Oscar Quentin Tarantino presenterà giovedì sera alle 20 al Teatro Grande di Brescia il suo primo saggio Cinema Speculation, il tanto atteso evento che si terrà in lingua inglese già sold out da tempo. Durante la serata Tarantino discuterà sui principali film americani degli anni 70 che vide all'epoca per la prima volta da giovane spettatore. L'apertura delle porte è prevista alle 18.30 ed è richiesto di presentarsi all'ingresso entro le 19.15 per esigenze logistiche e organizzative. Si specifica però che i biglietti dovranno essere stampati obbligatoriamente e presentati a teatro perché non potranno essere mostrati tramite dispositivi digitali. Infatti questo è un evento senza telefono, durante la serata è vietato ogni ripresa audio e video. All'arrivo in teatro tutti i telefoni saranno inseriti in singole buste Yander, già molto utilizzati in America durante gli spettacoli e potranno essere aperte solo al termine dell'evento. Yander è una speciale custodia per gli smartphone. Una volta inseriti i telefonini al loro interno la custodia si bloccherà e potrà essere aperta solo in determinate aree dove l'utilizzo verrà consentito. La mancata consegna di tutti i telefoni nelle buste da parte degli spettatori all'ingresso impedirà però l'accesso alla sala durante l'evento. Apriamo qui la pagina sportiva del nostro giornale, lo facciamo con una notizia che arriva da casa a Enne Brescia e parliamo quindi di pallanuoto, un rinnovo a pochi giorni da quello di Jacopo Alesiani e scopriamo chi rimarrà con i leoni per i prossimi due anni. Dopo il rinnovo meno di una settimana fa di una colonna portante del gruppo squadra Enne Brescia come Jacopo Alesiani, oggi è la volta di un'altra firma di peso. Vincenzo Renzuto sarà un leone per i prossimi due anni. A comunicarlo è stata la società stessa con una nota in cui viene giustamente ricordato il fondamentale apporto di Renzuto nella stagione 2021 culminata con la conquista di uno scudetto atteso da anni. Dopo la grande prestazione contro i Novi Beograd non potevamo non coronare il tutto con l'annuncio del rinnovo di Renzuto, il commento soddisfatto del vicepresidente dei leoni Alessandro Morandini. Siamo molto contenti perché anche lui sposa il progetto di crescita della squadra ed è un ragazzo con grandissime qualità palanotistiche e umane, siamo felici di averlo ancora con noi. Felice per l'accordo ovviamente anche il protagonista. Sono contento per il rinnovo, inizia il mio quarto anno qui, dice Renzuto. Ho un ottimo rapporto con la società e con la città, stiamo dimostrando che la squadra è sempre ad ottimi livelli e ogni anno puntiamo a vincere trofei. Questo è un aspetto importante che mi dà fiducia e voglia di continuare a giocare con questo gruppo, soprattutto in vista dell'anno olimpico. Come ogni giovedì, anche questa sera alle 21 qui su Elive, torna al tradizionale appuntamento con motori, motori a 360 gradi e dopo la pausa di settimana scorsa torna saldamente al timone Attiglio Ottantini che ci racconta qualche dettaglio in più in merito alla nuova puntata. Grazie della linea, stasera sarà una puntata veramente interessante perché parleremo di un equipaggio che all'età di 25 anni ha vinto la sua prima gara assoluta, stiamo parlando dell'amico Bottarelli e poi parleremo anche di Stefano Gibellini, consigliere della Norton, la scuderia che da anni ci sostiene tramite il presidente Pasquale Romano. Ma non parleremo solo di quello, sono state presentate le nuove vetture che faranno questa edizione della Freccia Rossa, tanti argomenti e andremo a sviscerare perché dietro le vittorie ci sono tanti antefatti, non vi anticipo nulla, seguite la puntata, a voi la linea, grazie. Grazie mille Attili, allora appuntamento alle 21 con motori a 360 gradi, invece l'appuntamento con l'intellegiornale almeno per l'edizione delle 12.30 termina qui, ma le notizie come sempre continuano ad aggiornarsi sul nostro quotidiano online www.livebrescia.tv sul quale non trovate solo le notizie ma anche la diretta in streaming, eccolo qua al nostro sito del canale 181 del Digitale Terrestre in questo piccolo box, se invece le ultime news le volete ricevere in anteprima sul vostro telefono cellulare il modo migliore è quello di iscrivervi ai nostri canali Telegram e Live Brescia News e Live Brescia Sport. Grazie per averci seguito anche quest'oggi, l'appuntamento con il telegiornale si rinnova questa sera dalle 19, nel frattempo a me non resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata e a presto.